Questa è il quinto inferno di oggi. Come sempre per io l'acqua è a 99,1 gradi. Questo è l'Oniyama Jigo. Ma gliel'ho fatto col diavolo. Andiamo, non c'è nessuno. Dice che la forza del vapore di questa sorgente riesce a tirare su un vagone e mezzo di treni. E crea le condizioni di ali per i coccolini. Io la fotografia mi sa che il bianco fotografi. La fotografia è bianca. Che fotografia? Evito la ripresa dei coccodrilli nelle gabbie perché sono contrarie all'izzoo. Sesto inferno di oggi. Inferno Shira-Ike-Jigo. Allora Sin triangata inizia a tempi. Non c'è nessuna d'è conta inizia Nel parco di Cannava hanno fatto il monumento per peristarlo allo sbuffo di vapore. Eccoci arrivati al nostro settimo inferno di oggi, oggi è una giornata d'inferno, ci ha beccato l'acquazzone, ma tanto noi ci siamo messi sotto lì, quando c'è il sole, quando piove, è tutto un casino, lì c'è lì, lì è l'inferno rosso, è l'inferno di sangue. Oggi siamo al 21, l'anno è il 21. Anche rampiandosi la situazione non migliora, è sempre troppo vaporoso per prendere. Adesso mi vado a provare anche quello io ora, è aumentato il gel, è aumentato anche il bollore eh, ci finisce il sole. Ah, sono anche il tumore di cima, è sbagliato a stare in cima lì, era meglio se mi metteva un f***o. Ottavo e ultimo inferno di oggi, l'ultimo inferno è un geyser che sta qua giù, c'è l'acqua del fumo, poi ogni 25 minuti, 25 minuti fa il botto e ti resputa di là. Il gelato di poca, sai? E allora quando ti vuoi abbonissimo. Se spallo nel giro. Eh, se spallo. Ah, no. 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 E' finito. Ora ce l'ho aspettato altri 25 minuti per rivedere in alto. E la scatta a raffia. e questo è il mio avviso anche inizia.